Buongiorno, buon pomeriggio, grazie davvero sincero per questo invito a tutta l'organizzazione, è un onore. Io appunto vi parlerò di interazioni sociali e comportamenti individuali un po' in ottica epidemiologica. Io sono un'epidemiologa di formazione e quindi quello che faccio è l'analisi della diffusione, quello che ho fatto quest'anno, l'analisi della diffusione dell'infezione nella nostra popolazione, in particolare con un focus in Lombardia e la valutazione di tutte quelle che sono le politiche o le determinanti. Quindi mi sposto un po' come tema, ho cercato di coprire temi che magari possono essere interessanti o curiosi dal punto di vista anche vostro e quindi giuro che non ho messo formule, però qualche grafico, diciamo, un po' di settore l'ho messo. Voi la vedete la mia presentazione? Allora, per parlare della pandemia in questi 15 minuti faccio un po' una carellata e vorrei partire proprio dai primi dati, perché i primi dati ci hanno insegnato tantissimo e continuano a guidare molte delle decisioni politiche. E vi riporto un po' con la mente a quello che 15 mesi fa, all'inizio della pandemia, che è scoppiata nel 2020, con il paziente numero uno che vi ricordate, a Codogno, e che in realtà ha segnato un momento di grande, diciamo, un grande stress, ansia, agitazione, sia dal punto di vista delle autorità politiche sanitarie, sia dal punto di vista della popolazione. In realtà il paziente che è stato individuato appunto il 20 di febbraio non era il paziente uno e nemmeno il paziente zero, perché la malattia era già, e questo abbiamo potuto ricostruirlo nel tempo, diciamo, a mano a mano che i dati venivano forniti, la malattia era già diffusa ben prima, a febbraio, ma in realtà anche a gennaio, era già presente in diverse parti della nostra regione. Nel momento in cui è stato individuato il paziente uno, chiaramente da quel momento in poi sono partite una serie di reazioni a catena, sia appunto in termini di interventi, che di reazioni personali, di comportamento rispetto alla paura, al rischio di questo, diciamo, questo evento conosciuto poco all'epoca e che quindi aveva un grande, insomma, creava un grande disagio nella popolazione. Ora, attraverso l'analisi dei primi dati che sono arrivati, quindi parliamo delle prime settimane della pandemia, abbiamo scoperto delle informazioni che poi si sono rivelate cruciali. La principale è il fatto che questa è un'infezione che è molto dipendente dall'età, dall'età delle persone e quindi colpisce molto più, con molta più severità, le persone di età più avanzata, gli anziani, ormai questo è di dominio pubblico, ma all'epoca vi ricordo che non si sapeva e quindi anche proprio l'analisi di quelle che sono state le iniziali catene di trasmissione che erano generate dall'interazione delle persone, hanno permesso di fare delle stime su quelle che sono le percentuali di casi sintomatici nelle diverse fasce d'età, la letalità nelle diverse fasce d'età e le differenze di genere di questa infezione. E appunto questo è un elemento molto importante perché poi avere un'infezione che è così agganciata alla distribuzione dell'età della popolazione crea un sacco di effetti collaterali sia per quanto riguarda il comportamento sia per quanto riguarda le misure. A oggi, queste sono le diverse onde pandemiche che abbiamo visto in regione Lombardia e vorrevo solo farvi un attimo fare il focus sul fatto che l'onda pandemica e un'infezione che entra in una popolazione completamente suscettibile è destinata ad aumentare e ad esaurire il pool di suscettibili che sono presenti. Chiaramente qui c'è stata, osservando l'anno passato, c'è stato l'intervento delle politiche quindi della chiusura totale, ce lo ricordiamo bene l'anno scorso oppure anche di politiche più costruite, quindi chiusura di scuole piuttosto che di bar, ristoranti e se ripercorriamo tutta la dinamica temporale dell'infezione vediamo proprio che sono state queste restrizioni che sono restrizioni a livello comportamentale ad abbattere la crescita che altrimenti sarebbe stata una crescita esponenziale dell'infezione. Quindi appunto per il fatto che l'infezione respiratoria, l'infezione facilmente trasmissibile nel momento in cui c'è il contatto umano stretto ma anche diciamo semplicemente di dialogo il fatto di imporre delle misure di restrizione ha avuto un impatto enorme su quello che poi siamo andati ad osservare. Ora questo giusto per farvi avere una visione un pochino più allargata di quella che è stata la situazione in altri paesi europei questi dati sono non dall'inizio della pandemia, dalla seconda ondata e la curva che vedete quella più in grassetto, quella viola, è l'Italia e le altre curve sono tutte curve di altri paesi europei quindi il significato qui è il seguente pur avendo un'infezione che presenta caratteristiche uguali in diversi contesti poi l'outcome, quello che abbiamo osservato, quello che abbiamo visto è profondamente diverso da paese a paese e come mai questo succede? Beh perché da una parte abbiamo delle caratteristiche del paese che vedremo in un attimo dall'altra parte abbiamo le politiche che sono state messe in atto in modi e in tempistiche diverse Ora quindi, dati tutte queste informazioni tutte le informazioni che abbiamo raccolto nello scorso anno quali sono quelle che abbiamo capito riconosciuto come determinanti per la diffusione di SARS-CoV-2? Le raggruppo diciamo in queste categorie la prima è sicuramente le caratteristiche che sono proprie dell'infezione quello che vi ho mostrato prima quindi la capacità di trasmissione dell'infezione il famoso RT che ormai conosciamo tutti ma anche le caratteristiche legate appunto alla suscettibilità per età alla durata dei vari periodi quindi una serie di caratteristiche che sono proprie dell'infezione poi abbiamo non ce l'abbiamo più perché non guardo scusa poi abbiamo la demografia quindi tutte queste variabilità che abbiamo osservato tra i vari paesi dovute anche appunto perché è un'infezione legata all'età al diverso contesto demografico quindi qual è la distribuzione dell'età nei vari paesi quali sono le strutture sociali che abbiamo nei diversi paesi che possono facilitare o interrompere queste catene di contagio il terzo elemento fondamentale sono appunto le interazioni sociali e il comportamento individuale nel senso che questo è il tema che svilupperemo nelle successive slide però come veramente gli individui interagiscono anche questo è un e lo vedremo è un un fattore che è fortemente legato alla tradizione alla storia dei popoli delle varie comunità e che si differenzia parecchio da un posto da un paese ad un altro eppure il comportamento individuale rispetto alle misure di prevenzione che sono state messe in atto quindi l'adesione o meno e quantificare proprio i diversi tipi di adisioni sulle diverse fasce di popolazione e l'ultimo è la mobilità quindi quanto appunto in un mondo globale di connessioni abbiamo comunque diversi diciamo dei luoghi sono più facilmente connessi rispetto ad altri delle fasce di popolazione sono più mobili rispetto ad altri quindi c'è questo ulteriore elemento che ha avuto sicuramente un impatto sulla dinamica di diffusione e la tempistica quindi se pensiamo ai comportamenti e le interazioni sociali dobbiamo proprio pensare a tutto quello che riguarda la nostra interazione con gli altri quindi dal comunicare attraverso solamente parole l'interazione fisica l'interazione che può essere anche su altri contesti altri livelli come l'interazione virtuale che non è sicuramente un canale attraverso il quale viene diciamo si diffonde il virus però è un canale attraverso il quale si diffondono i comportamenti e le paure e l'avversione al rischio tutti questi elementi sono elementi che abbiamo capito essere veramente determinanti per capire come funziona il contagio e anche metterci in una prospettiva di riapertura con più consapevolezza ok ora interazioni sociali e qui entro un pochino più nel dettaglio con qualche cartoon all'inizio però appunto parliamo di distanza o di vicinanza delle persone nella popolazione di durata dei contatti parliamo di contatti in ambienti diversi e questo è fondamentale perché abbiamo visto anche l'importanza della chiusura delle scuole della chiusura dei posti di lavoro diversi contesti racchiudono soprattutto in un ambiente come è quello dell'italiano comunque europeo diversi contesti racchiudono individui con caratteristiche demografiche abbastanza simili quindi appunto all'interno delle scuole in Italia, in Europa rispetto a paesi poveri ad esempio abbiamo una sortatività molto elevata quindi individui della stessa età e via dicendo quindi tutte queste strutture sociali determinano quelle che noi chiamiamo le catene di trasmissione quindi come il virus si diffonda all'interno della popolazione e avere chiaro quali sono i contesti che sono più a rischio è estremamente importante in un'ottica proprio prospettica di intervento e anche per riuscire ad intervenire prima e meglio nel momento in cui dovesse ripartire o magari dovessero arrivare altre infezioni ora come facciamo in questi modelli previsionali a trasformare tutte queste cose che vi ho detto e a trasferirle in un modello che i modelli che vengono utilizzati sono modelli matematici quindi hanno delle equazioni che descrivono l'interazione delle persone beh ad esempio i contatti sociali li trasformiamo in una matrice in una matrice di contatti che per quanto riguarda l'infezione del covid è una matrice che è definita per l'età perché appunto abbiamo visto che l'età sono un fattore molto importante e quindi andiamo a misurare l'interazione sociale tra i diversi gruppi di età perché attraverso proprio questa interazione sociale dipenderà la probabilità di generare una nuova infezione e quindi raccogliamo e abbiamo raccolto questi dati proprio per parametrizzare rendere diciamo mettere dei numeri dentro queste celle che ci determinano un po' appunto l'intensità dei rapporti ora questi sono dati veri e sono dati in realtà pre-pandemici che riguardano diversi paesi in Europa, in Africa, in Asia, America Latina e qui vedete la matrice disegnata che vi ho descritto prima la vedete proprio strutturata con fasce d'età molto più sottili e questa è un'informazione fondamentale per studiare la diffusione del covid ma di tutte le malattie che si trasmettono attraverso un contatto fisico perché ci dà l'informazione di quanto appunto sono intensi i contatti e vediamo che nei paesi europei questa diagonale sulla matrice rappresenta l'intensità dei contatti tra persone della stessa fascia d'età quella che noi chiamiamo assortatività che è molto marcata in tutti i paesi europei mentre al di fuori della diagonale c'è un po' più vaghezza quando queste matrici vengono guardate più nel dettaglio ci sono dei pattern ad esempio per quanto riguarda l'Italia abbiamo il pattern dei contatti intergenerazionali che è più marcato rispetto ad altri paesi per cui genitori e figli ma anche nonni e figli quindi un'interazione importante tra diverse generazioni che appunto per il covid è stato abbastanza un elemento cruciale per altri paesi tipo questi paesi africani Zimbabwe e Kenya vediamo che la sortatività c'è ancora per le fasce d'età scolari però la matrice si rende un pochino più proporzionale rispetto alla distribuzione d'età della popolazione nelle fasce d'età più avanzate e questo è anche un elemento importante perché è un modo quantitativo per rappresentare come le strutture sociali sono organizzate in questi contesti dove abbiamo delle famiglie estese con diverse generazioni che coabitano all'interno del stesso nucleo e quindi l'interazione tra le varie fasce d'età è molto più variabile Ora, osservando appunto questi dati e cercando di riassumere un po' le differenze che osserviamo tra i paesi troviamo che c'è un'alta variabilità sul numero dei medi e dei contatti tra i vari paesi quindi andiamo da un numero medio di contatti al giorno dai 7 ai 16 per paesi quindi questa è la, diciamo, l'asse delle Y mentre abbiamo un'assortatività che è l'asse delle X che varia pure quella parecchio però vediamo i paesi europei che sono tutti, come ho detto prima ad alta assortatività mentre sono molto più bassi in termini di assortatività i paesi dell'Africa Un altro aspetto che notiamo questo, ok altro aspetto che vediamo è quello che popolazioni più anziane hanno una propensione al netto della demografia quindi al netto del fatto che popolazioni più anziane hanno effettivamente un numero di individui sopra una certa soglia d'età più alto ma al netto di questo vediamo che la propensione ad interagire in queste popolazioni è più bassa rispetto alla propensione ad interagire in popolazioni più giovani e di nuovo questa è una fotografia di come funzionano le relazioni all'interno delle società in contesti africani e asiatici troviamo popolazioni troviamo anziani che sono molto più esposti e interagiscono molto di più con tutte le fasce di popolazione nella loro comunità ora un altro aspetto interessante che abbiamo studiato e che è importante per il futuro riguarda l'adesione alle politiche restrittive che sono state messe in campo dai vari paesi e qui in questo studio mettiamo a confronto diversi paesi e vediamo che l'Italia ha un'adesione alle politiche e quindi all'utilizzo della mascherina al distanziamento sociale che è particolarmente elevata rispetto agli altri paesi che sono nello studio e in particolare notiamo una differenza tra uomini e donne quindi le donne sembrano essere in Italia molto più compliant molto più rispettose nei confronti delle politiche che abbiamo messo e questo è un elemento di nuovo è un elemento importante perché va a definire se vogliamo la percentuale di individui che accettano di sottostare da un determinato comportamento e quindi ha un'influenza molto forte su quella che è proprio la diffusione del virus altra informazione che abbiamo raccolta è sull'adesione alle politiche di vaccinazione alla vaccinazione per il covid e anche in questo caso abbiamo che c'è una differenza di genere abbiamo trovato una differenza di genere nel senso che in Italia sembra che le donne abbiano un'adesione delle politiche di vaccinazione che è più bassa rispetto a quella degli uomini e in linea con la maggior parte degli altri paesi anche se più alta di Francia e Australia l'ultimo focus che stiamo facendo che riesco a presentarvi oggi riguarda invece l'aspetto delle emozioni e l'aspetto del diciamo come da una parte abbiamo i comportamenti ma i comportamenti delle persone sono guidate dalle loro paure dalla loro avversione al rischio da una serie di elementi che si modificano nel tempo e che sono molto influenzabili diciamo all'interno della cerchia sociale nella quale le persone si trovano e quindi per questo per riuscire a mappare questo fenomeno questi fenomeni vari abbiamo stiamo utilizzando i dati dei social media quindi stiamo utilizzando i dati di Twitter in particolare dall'inizio della pandemia fino ai giorni nostri stiamo creando anche una dashboard per riuscire a monitorare e far vedere come variano le emozioni sulla base anche dell'andamento non solo l'andamento epidemiologico ma anche sulla base delle misure che vengono messe in atto e qui vi mostro solamente che effettivamente l'argomento salute è stato un argomento molto dibattuto sul Twitter l'anno scorso che proprio non ha confronto rispetto alla politica l'economia i vaccini chiaramente sono subentrati dopo e questa linea verde che inizia a piccare verso la fine dell'anno 2020 e poi vediamo invece che la curva diciamo la linea che rappresenta l'emozione della paura è stata in crescita per tutto l'andamento della pandemia e anche diciamo è più alta rispetto alle altre emozioni che sono quelle di gioia e tristezza che sono le due linee che stanno in basso mentre scusatemi paura e rancore sono le due emozioni che sono attraverso un'analisi testuale dei messaggi su Twitter sono le due emozioni che sono risultate più presenti all'interno di quei social media e in crescita nel tempo la paura rancore non tanto in crescita è abbastanza stabile quindi concludo il processo di diffusione delle malattie infettive è un processo estremamente complicato e complesso che dipende da una serie di elementi si parte da quelle che sono le caratteristiche del virus a elementi più legati alle caratteristiche della popolazione all'interno della quale il virus si diffonde abbiamo visto la demografia e sicuramente le interazioni tra le persone e i comportamenti l'adesione alle politiche di prevenzione quindi la propensione ad essere vaccinati ma non solo a portare la mascherina a mantenere il distanziamento sociale a rimanere in casa a non andare nelle altre regioni sono processi che tutti influenzano la velocità con la quale un'infezione può diffondersi all'interno della popolazione quindi devono essere profondamente e in modo rigoroso monitorati nel tempo ed è importante capire bene quali sono le determinanti di questi comportamenti in aggiunta a queste c'è appunto tutta la la sfera delle emozioni delle paure della versione al rischio che pure influenza i comportamenti e quindi anche questo ha un diciamo monitorare questi trend dopo questi 15 mesi di pandemia penso che siamo arrivati a maturare che è un fattore molto importante e l'outcome finale ora domani una prossima pandemia speriamo più tardi possibile deriva dall'intersezione di tutte queste dimensioni quindi non è sufficiente considerare una dimensione unica io penso che abbiamo imparato questo in questi 15 mesi non è sufficiente considerare una dimensione unica ma bisogna contestualizzare inserire elementi anche molto dettagliati che riguardano la popolazione e le strutture sociali nelle quali il virus si diffonde e quindi penso che per il futuro e con una così ottica anche ottimistica abbiamo imparato tanto e spero che saremo più pronti dovesse succedere di nuovo grazie